Il pronunciamento del Tarra almeno per il momento ha bloccato la realizzazione del biodigestore a Chianche ma la partita non è ancora finita. Ora comincia un altro match che potrebbe disputarsi davanti al Consiglio di Stato. Una possibilità rispetto alla quale non c'è ancora una conferma. La Regione si arrende, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto i sindaci di Altavilla Erpina, Montefusco, Petruro Erpino, Santa Paolina e Tufo che con il sostegno del Comitato Nessuno Tocchi Lirpini a gennaio del 2022 avevano presentato il ricorso al Tarra contro il Comune di Chianche e la Regione Campania possono esultare per il risultato ottenuto. Rispetto a quale il primo cittadino di Altavilla, Mario Vanni, ai nostri microfoni rincara la dose e parla di sconfitta per la politica. In sostanza la nuova sentenza chiarisce definitivamente che la valutazione di impatto ambientale non ha adeguatamente considerato le gravi problematiche relative alla circolazione stradale causate dal traffico degli automezzi in entrate e in uscita dall'impianto lungo le strade provinciali interessate. Inoltre non è stato tenuto conto del fatto che l'impianto è stato previsto in una zona agricola naturalistica classificata nel piano territoriale della provincia di Avellino come area di alta qualità per la produzione del greco di tufo DOC-G. oltre a far parte del Corridoio Ecologico Europeo. I sindaci inoltre in fase di ricorso avevano sottolineato che per l'iterra amministrativo si era proceduto senza il necessario coinvolgimento dei comuni limitrofi all'area dove si sarebbe realizzato l'impianto e dei soggetti interessati alle filiere produttive. In attesa di capire cosa accadrà e per evitare nuove battaglie i sindaci sperano che ora si avvii un dialogo e che le istituzioni competenti in primis la regione Campania e il lato rifiuti di Avellino si ravvedano circa la decisione di realizzare il biodigestore nel comune di Chianche e si orientino come dicono da tempo e inutilmente i sindaci ad individuare aree compatibili che le leggi nazionali e regionali in materia indicano con chiarezza considerando anche la diffusa presenza in Irpinia di zone industriali purtroppo dismesse.